Siamo allontanati dal porto bellissimo quando parte questo è il momento migliore poi ovviamente che prendiamo il largo ma ecco ma accelera è emozionante com'è che non ho mai partecipato io te lo dicevo sempre fai una croce e prendi una femmina e qualcuno cioè è un'esperienza che non deve fare pure per te la prima crociera a me la prima sono stato otto anni marina ah e vabbè guardo che ne sono vabbè li ho vissuti in maniera diversa perché quando la fai diciamo da crocierista ti diverti un villaggio quando ti fai come lavoro ovviamente il mare è mosso un'esercitazione di guerra una volta facciamo il varo della nave una nuova nave da guerra stavo un po' brio al varo guarda la nave affondò i pericoli certe volte addirittura affondano affondano non è che affondano quella affondata quella che abbiamo fatto il varo affondò siamo salvati per piracolo che non avere una fregata grazie a tutti grazie a tutti